C'è stato un momento pubblico nel quale il ministro per gli affari regionali Francesco Boccia ha ringraziato gli infermieri e tutti gli operatori sanitari impegnati nell'emergenza coronavirus. L'occasione è arrivata domenica scorsa con la visita del ministro all'ospedale di Biceglie, unico presidio covid nella provincia Bat. A quel momento ha fatto seguito una seconda occasione nella quale l'esponente del governo ha incontrato e ringraziato gli infermieri protagonisti assoluti della lotta in trincea al coronavirus. Incontro più ristretto e lontano dalle telecamere ma non per questo meno importante per gli infermieri guidati dal presidente dell'ordine professionale della Bat Giuseppe Papagni. Al ministro sono state ribadite le richieste degli infermieri ora che l'emergenza sembra essere alle spalle. Abbiamo posto al ministro alcuni temi importanti come la figura degli infermieri di famiglia che è previsto nel decreto rilancio e quindi in questi giorni verrà convertito in legge ed è proprio quella figura che adesso manca sul territorio e che potrebbe dare quelle risposte di salute proprio in un momento particolare e quindi vista l'esperienza negativa di questa emergenza sanitaria che ci portiamo ancora avanti l'infermiere di famiglia può dare quelle risposte che il territorio in questa emergenza non ha saputo dare. Quindi un forte investimento su questa figura che significa appunto dare più sanità e quindi andare incontro a quello che è il nostro mandato professionale e dare appunto rispettare quell'articolo 32 della Costituzione col diritto alla salute. Il timore voi infermieri che passata questa emergenza è come se si rischi che si spengano un po' le luci che vi hanno portato alla ribalta insieme a tutto il personale sanitario durante questi mesi di emergenza sanitaria? Noi siamo fiduciosi, infermieri non sono eroi durante l'emergenza, non lo erano prima ma hanno sempre dato il massimo, hanno sempre espresso la loro professionalità portando i valori propri dalla professione, portando salute ai cittadini, sono sempre stati al fianco dei cittadini quindi noi siamo fiduciosi che il grido che oggi si solleva dalle piazze venga ascoltato dai politici ma che appunto i cittadini si facciano promotori di questa, chiamiamola rivoluzione, di questa valorizzazione di un'intera comunità professionale.